D'Aula, anche un po' di collaborazione su questo. Onorevole Dallai. Onorevole Fontana, prego. Grazie, Presidente. Accettiamo tutte le riformulazioni per gli ordini del giorno dei colleghi del gruppo del PD e chiediamo di non mettere in votazione i nostri ordini del giorno. Grazie. La ringrazio. Onorevole Palese, prego. Sì, grazie, Presidente. Noi accettiamo tutte le riformulazioni. Chiaramente non chiediamo il voto per le riformulazioni di pareri favorevoli. Per invece i pareri contrari ci riserviamo dove ci fosse necessità, lo diremmo volta per volta. Grazie. La ringrazio. Onorevole Palese. Onorevole Molea, prego. Grazie, Presidente. Anche noi accettiamo tutte le riformulazioni e chiediamo di non mettere in votazione. La ringrazio. Avverto che gli ordini del giorno Venitelli, numero 8, e Gebbard, 73, sono stati ritirati. Onorevole Rampelli, prego. Grazie, Presidente. Noi accettiamo la riformulazione di tutti gli emendamenti. Ovviamente, a eccezione di quello di... Ordini del giorno. Ordini del giorno, scusi. A eccezione di quello, affirma Giorgia Meloni. Adesso la numerazione la stavo cercando. Comunque non è difficile trovarla, perché l'eliminazione in blocco di due gommi, ovviamente, mortifica completamente il senso dell'ordine del giorno. Va bene. Onorevole Scopelliti. Prego. Anche noi accettiamo tutte le riformulazioni per i rifavorevoli e chiediamo che non siano messi al voto. La ringrazio. Allora, intanto procediamo. Numero 1 dall'Ai... Onorevole Scopelliti, lei formalmente non è in delegato d'aula del suo gruppo, ma devo intendere che poi il suo gruppo in questo... Ok, perfetto. A questo punto passiamo all'esame degli ordini del giorno.